Ben tornati su Rete8 appassionati di cucina, anche oggi vi saluto dalla costa dei Trabocchi insieme al nostro chef Marco Caldora. Ben riviste anche oggi, che giornata meravigliosa, poi guarda che gallinelle lucide, belle, bellissime, questo praticamente è pescato locale, giusto chef? Sì, solo pescato locale, queste cose gallinelle sono pesci di carne bianca, molto semplici e pesci versati, fa parte del pesce povero, non esiste un brodetto dove non si mette la gallinella, ma se la fai arrosto oppure un altro capolavoro. Sono i pesci semplici della nostra costa che hanno fatto la storia. Che ci rappresentano, è vero, raccontano il nostro territorio. Esattamente, sì, è vero. Ebbene chef, allora iniziamo, innanzitutto che cosa prepariamo oggi? Oggi facciamo un semplice, che tanto a volte si associa un pesce per essere forse un secondo, invece noi in questo caso facciamo uno spaghetto con frutto di gallinella e asparagi. Abbiamo bisogno di gallinella, asparagi, un pomodorino, un po' d'aglio, un prezzemolo fresco, un gocci di vino bianco e olio buono. Perfetto, e l'olio buono non abbiamo problemi perché ne abbiamo in quantità. E gli spaghetti. E anche per quanto riguarda gli spaghetti, veramente in Abruzzo abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Scegliamo sempre pasta abruzzese, olio abruzzese, pomodoro abruzzese. Valorizziamo il nostro territorio, il nostro Abruzzo perché non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Abbiamo tutto. Su una cosa sono d'accordo che dice la nostra nutrizionista. Quando esortisce con se volete dimagrire voi non lo sentite. Mangiate tranquillamente, però ovviamente, no Anna scusa mi scherzo, che mi metti un po' d'ansia quando dici così. No, quando lei dice sempre che comunque dobbiamo fare la dieta mediterranea, io dico dobbiamo fare la dieta abruzzese, nel senso che veramente il nostro territorio ci regala tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo semplicemente ascoltarlo, affidarci alle risorse della nostra terra. È vero. Ma se ci mettiamo a pensare, Chef, tra l'aglio rosso di Sulmona, la patata del fucino, i pesci dell'Adriatico, l'olio, i vini, ma guarda. Ma che scherzo. Siamo ricchissimi da questo punto di vista. È vero, è vero. Guarda, l'aglio lo lasciamo proprio a cuore, proprio a lamelle grandi perché si deve vedere. Si deve vedere e si deve anche sentire, immagino. E quando cucinate il pesce ci dovete mettere l'aglio e il prezzemolo perché tutte le cucine aglio e prezzemolo ci va sempre. Poi a meno che non è un problema di intolleranza, un problema di qualche altro genere. Se vogliamo fare una cucina del territorio, io tra l'altro sto realizzando in collaborazione con il centro un inserto dedicato alla cucina dei pescatori. E poi raccogliendo le loro ricette, le loro testimonianze, proprio ci sono degli elementi che veramente non mancano nella tradizione marinaresca brezzese. Sono uno è l'aglio e l'altro è il feffellone. Ma assolutamente, assolutamente. Quindi utilizziamoli perché insomma ci rappresentano. Ci va. Fanno parte di noi, della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Quindi gli asparagi li abbiamo leggermente sbollentati prima. Appena appena sbollentati, sì. Mettiamo i gambetti un po' più, che sono un po' più duretti, li mettiamo per prima. Un goccino di vino bianco. Cominciano a tirare, aggiungiamo un po' d'olio perché ce le vuole. Ce le vuole mi piace, aggiungiamo un po' d'olio perché ce le vuole. Perché ce ne ho messo poco. Non un cucchiaino, non due. Quello che ci vuole ce lo dobbiamo mettere, vero chef. Mettiamo i pomodorini. Guarda, proprio procedure molto molto semplici, anche perché rientri a casa da lavoro, rientri a casa dal mare. Io devo essere sincera, quando torno a casa dal mare non ho mai voglia di cucinare, di stare soprattutto ai fornelli. Però devo dire che con un primo piatto molto veloce si può fare. Uno spaghettino. Sì, infatti. Facciamo cucinare. Oggi qua tra barche, elicotteri, siamo proprio al centro del mondo. Senti l'elicottero? Sono richiamati dai profumi. Giochiamo con l'acqua perché l'acqua, l'acqua nella prima di pesce, è importante. E la gallinalla che facciamo? Allora, ce la sfilettiamo bella bella. Come solo tu sai fare. No, è facile. A vederti è facile. Ti manco sempre affascinata quando ti vedo fare quest'operazione, perché per me è difficilissima. No, un po' di pazienza. Quindi praticamente dobbiamo seguire, diciamo, la lisca centrale. Sì, la barchia, segui la lisca e la sfilettiamo per benino. Eccola qua. Tanto poi, diciamo che il nostro chef non butta nulla perché con la parte che rimane va a realizzare sempre i fumetti di pesce che poi sono indispensabili. Un fumetto, sì, 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 un brodino. Sempre. Anche perché lì, insomma, c'è tanto sapore. Come no. Ti do una girata, Cecilia, nel tempo. Noi la pasta, in questo caso, l'abbiamo già cotta per motivi proprio televisivi. Tecnici. Ci teniamo tanto a realizzare veramente le nostre ricette in soli dieci minuti, quindi alcuni passaggi che sono un pochino semplici e scontati, come la cottura della pasta o lo sbollentare agli aspargi, li anticipiamo sempre. Ah, mettiamo proprio i filetti interi, così? Sì, sì, proprio interi, sì. Questi andranno a cuocere in un attimo. Ma sì, questa è una cottura breve, brevissima deve essere. Quindi la pelle non l'abbiamo tolta con la pelle? No, la pelle, sì, sì, perché ci mantiene la consistenza delle carni. Poi se la vogliamo far più sfaldata, più rotta, a me piace lasciarci proprio il pezzettino intero. Sì, che bella. Seguiamo la cottura della nostra gallinella. Ecco, guardate, abbiamo praticamente i nostri filettini che si sono cotti e hanno impiegato 30 secondi. 30 secondi, proprio una cottura molto molto breve. Neanche un minuto. Un po' di sale. E a questo punto si può dire che è tutto pronto? Questo punto è quasi pronto. Che dobbiamo fare? Aggiungiamo la pasta? Aggiungiamo la pasta appena è cotta, che noi ce l'abbiamo già cotta. Sì, sì. Ci spostiamo nel filetto, lo dobbiamo riutilizzare dopo. Ok. Ok. E a questo punto facciamo saltare i nostri spaghetti. Facciamo ultimare la cottura? Sì. Magari li scoliamo un po' prima. Esattamente. Facciamo belle mantecare, risottare, belle... Sì, in modo che assorbono tutto il sapore. Anche perché il sapore della galenella è qui, perché comunque anche se l'abbiamo tolta ma ha insaporito perfettamente il condimento. Ed eccoci amici, siamo pronti per impiattare, vero? Sì, sì, siamo prontissimi. La pasta ha tirato tutta la sua... Ok. Aggiungiamo un po' di prezzetto. Un po' di prezzetto fresco macinato al momento. Sì. A questo punto ci impiattiamo... Ci impiattiamo... Ci impiattiamo... I spaghetti. Sì. Allora. E poi, non lo so, lo spaghetto per me è sempre un po' una pasta estiva. Mi dà sempre la sensazione di qualcosa di poco impegnativo. Eh, non mettete, state, uno spaghetto con le vongole, uno spaghetto con le cozze, dai. Ah, beh, con le vongole sono i miei preferiti, sai, chef. L'abbiamo fatto qualche volta con le vongole? Sì, sì, l'abbiamo fatto, sì. Sicuro? Sì, sì. Adoro gli spaghetti con le vongole, mi piacciono tantissimo. Ma guardate che meraviglia. Che primo piatto, veloce, gustoso, versatile. Veramente non manca nulla. E ci siamo, chef. Voilà. Che meraviglia. Facile, facile. Un piatto da re. Un piatto da re, un piatto semplicissimo che potete rifare a casa e devo dire anche economico, perché la gallinalla è un pesce economico, diciamolo. Quindi veramente con pochi ingredienti riuscite a soddisfare anche i palati più esigenti. Grazie, chef. Vi fate dei mostri piatti e seguitici sempre su Rete8. A domani. Ciao. È una buona idea farsi un orticello sul balcone, nel giardino. In questo modo possiamo coltivare le spezie che aggiungiamo quotidianamente in ogni pasto. Origano, basilico, prezzemolo, cardamono, ricchissime di ferro, di acido folico, di vitamina C e anche molto aromatiche. In questo modo possiamo ridurre il consumo di sale e ridurre il rischio cardiovascolare, ridurre la ritenzione idrica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.